Il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e ex Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha richiamato l'attenzione della Regione Abruzzo sul tema del potenziamento delle infrastrutture sul nostro territorio parlando dei fondi che arriveranno con il PNNR e parlando di quelle che sono le priorità per il territorio. Certo non le 68 che leggiamo nei documenti di programmazione strategica della Regione e neanche l'una priorità che abbiamo trovato in questa nota foglio che è stata scritta ai dirigenti e agli assessori da parte della Regione attuale. Noi sappiamo che le risorse per l'Abruzzo sono circa 3 miliardi di euro derivanti dal PNRR. Più ci saranno 300-350 milioni di euro derivanti dalla scelta dei contraenti del PNRR nazionali declinati a livello di Abruzzo. Su queste straordinarie risorse finanziarie che dovranno coprire e accompagnare progetti con pareri degli enti terzi, l'Abruzzo può trovare risposta almeno a queste questioni che elencherò. Il cablaggio di scuole, università ed ospedali per la continuità dell'offerta educativa, formativa e sanitaria. Ogni scuola, ogni università e ogni struttura sanitaria potranno avere la qualificazione di continuità nella offerta formativa, educativa e sanitaria. Finalmente possiamo anche avere in Abruzzo continuità della telemedicina, anche prevedendo stagioni che noi speriamo non accadano di nuova fragilità. Così come c'è l'esigenza di ritrovare e recuperare quantità di acqua per la vita delle civili abitazioni ma anche per le attività industriali, poiché stiamo soffrendo ancora la dispersione idrica. Il piano attivato da noi va ulteriormente implementata e anche realizzato. Ci sono risorse per questo, sia del PNRR, sia del nuovo settennato di programmazione Abruzzo, Stato membro Italia-Europa. Abbiamo il tema della viabilità su gomma. Per quanto riguarda alcune importanti varianti da completare, penso alla variante di Vasto San Salvo e una delle strade con il più alto tasso di incidentalità d'Italia. Alla strada che conduce l'Aquila fino alla Salaria, attraverso Amatrice. Anche lì ci sono dei cantieri che devono essere completati. C'è la variante riguardante il quarto lotto della Terramomare, già finanziata. L'asse di penetrazione al Gran Sasso Pescarese, Loreto Penne. Ci sono i soldi e ci sono anche le progettazioni. C'è anche il tema riguardante le varianti tra Pescara e Silvi. Tra Pescara e Ortona per quanto concerne il raddoppio della Galleria. Ci sono assi di penetrazione che attendono lì di essere coperti. Pensate anche all'Istonia, che è una viabilità che collega la provincia di Chieti con il Molise. Tutto questo può trovare copertura, lavorandoci insieme, evitando il gigantismo di 68 priorità o il nichilismo, il nullismo di una sola priorità, magari chiesta a terzi e quarti. Io voglio dare una mano sapendo che questi 30 mesi che abbiamo davanti non sono ripetibili. Se si perdono dobbiamo aspettare i prossimi 15 anni.